Ciao, nell'Evangelo oggi mi è colpito che Gesù manda sui discepoli, ma manda solo agli ebrei, solo a loro, e dice non andate a samaritani, non andate a pagani, ma solo a queste pecore che sono perse dal casa di Israele. Perché così? Questa è discriminazione o cosa? Penso che no, perché Gesù parla con la samaritana nell'Evangelo dei giovani, ma cosa quindi succede qui? Io penso che i discepoli sono preparati per parlare solo finché ora, sono preparati per parlare con la gente che crede, che considera profeti per esempio, che considera salmi, che considera tutte le saggezze che sono nascoste in questi libri, che riesce così arrivare al cuore della gente, parlando che qui i profeti già parlano, c'è la speranza, c'è qualcuno. E penso che queste cose la gente può comprendere, c'è quindi un tipo di codice, un tipo di lingua, metafora, tutto questo che riescono e sanno della sua educazione. E peraltro, i sadduzei per esempio, non hanno considerato profeti, non hanno considerato le scritture, solo la Torah. E peraltro, i profeti e i discepoli hanno tantissimi stereotipi, sono sempre discepoli, sono sempre che imparano questo che Gesù vuole loro insegnare, che non dobbiamo fare differenza tra le persone, che dobbiamo trovare la lingua per ogni persona, come Gesù trova. Gesù trova la lingua con ogni creatura che trova, riesce anche in deserto a parlare con gli animali, con la natura, riesce, trova tutti i linguaggi. Ma i discepoli forse non sono ancora pronti, possono rovinare per ora questo che Gesù vuole fare. Ma arriva un momento in quale non avranno più questo, riescono a capire, ma questo è un processo. Quindi quale insegnamento nacque in questo Vangelo, quale insegnamento per noi, per i nostri tempi? Penso che soprattutto questo è che dobbiamo usare anche la nostra testa, il nostro cuore, le nostre emozioni e sapere dove riusciamo ad andare. Con quale lingua, con quale strumenti abbiamo per parlare con la gente e trovare soprattutto questi modi per quali siamo più adatti, per quali ci sentiamo più. E sempre, sempre imparare e cercare di fare così che Gesù può dire a noi. Andate anche ai samaritani, ai pagani, a tutti, perché capite già come parlare con ogni persona. Quindi, insegnamento fino a crescere, crescere nel trovare lingua giusta per ogni persona. Grazie.